Io mi chiamo Diego Robotti, sono il direttore di questo museo. Che è il museo storico del mutuo soccorso di Pinerolo, museo che si trova dentro la società di mutuo soccorso di Pinerolo. Sono anche un appassionato studioso da tanti anni di questo fenomeno che chiamiamo mutualismo, e cioè quel movimento associativo nato a metà ottocento che va sotto il nome di Società Operaia di Mutuo Soccorso. Siamo nella sala consiglio della Società di Mutuo Soccorso di Pinerolo. La sala consiglio, come vedete alle mie spalle, è arredata come era l'antica sala consiglio. La sala consiglio è esattamente a metà del percorso museale, cioè delle quattro sale iniziali e delle successive altre quattro sale del museo, ed è rimasta così com'era. La società operaia di mutuo soccorso di Pinerolo è la prima che nasce nel territorio italiano. Bisogna pensare a una situazione diversa da oggi, una situazione in cui non c'è la mutua, cioè non c'è la copertura del rischio malattia. Quando qualcuno cade ammalato, allora a metà dell'ottocento perde il salario, non può andare a lavorare, è malato, si è fatto male e non percepisce niente finché non torna a lavorare. Non c'è il Servizio Sanitario Nazionale e quindi il medico, se gli serve, se lo paga lui. Ma soprattutto perdendo il salario e non avendo soldi da parte, perché non ne avevano il loro salario, il loro stipendio, era a malapena sufficiente per campare loro e le loro famiglie, se stanno ammalati per diverso tempo, sono letteralmente alla fame. Qual è la soluzione che trovano questi operai di allora? La soluzione viene tentata in Inghilterra, in Francia e in Belgio e in quegli anni a Pinerolo viene adottata, quindi non è una pura invenzione, si chiama società di mutuo soccorso. La parola operai, operaia, è perché nasce tra gli operai. Consiste in questo, facciamo una cassa comune, costituiamo un'associazione, siamo tutti insieme, facciamo una cassa comune e versiamo un giorno di paga al mese. Quando qualcuno di noi è ammalato, la società gli versa per ogni giorno di malattia un giorno di paga. semplice, semplicissimo. Questo vuol dire che senza fare ricorso alla carità di nessuno, con i soldi nostri, noi 100, 200, 300 persone che ci siamo associati, facciamo fronte a un rischio gravissimo che può essere veramente tremendo, perché una famiglia dove un lavoratore perde il salario per un mese, quel mese lì non sa davvero come andare avanti. Se è parte di questa società, quel mese lì percepisce la paga come se andasse a lavorare. È una soluzione bellissima, attenzione però, sembra troppo semplice raccontarla così, si basa sulla reciproca fiducia. Nessuno deve fare il furbo, non bisogna far finta di essere ammalati, naturalmente non basta la fiducia, c'è anche un controllo reciproco molto forte. Sostanzialmente per stare in pari, se ci sono 100 soci, contemporaneamente non possono essere più di 4 o 5 quelli ammalati. Quindi se ogni mese ci sono 10 ammalati, basta poco per andare in fallimento e quindi chiudere l'associazione. Quindi c'è una carica molto importante, che di solito è ricoperta dai soci anziani di fiducia della società, che si chiama visitatore. Il visitatore è un po' la visita di controllo che c'è adesso quando si cade malati, il visitatore viene, dopo qualche giorno che è partita la malattia, viene a trovarti a casa, ti augura pronta guarigione e però controlla anche che tu sia davvero ammalato. Quando si è malati non si può lavorare, perché se puoi lavorare anche a casa tua, vuol dire che non hai diritto al sussidio. Con questo sistema però le società facevano fronte, non solo, ma sempre con un giorno di paga al mese, riuscivano anche a pagarsi il medico sociale, cioè assumevano loro, facevano un contratto con un medico del posto, che si impegnava a visitare gli ammalati, dare e prescrivere loro delle medicine, prescrivere delle cure, ma soprattutto faceva la cosiddetta dichiarazione medica, cioè il certificato di malattia e la previsione di guarigione, quindi ti dava la settimana i 15 giorni di malattia. Quello che successe allora a metà ottocento, che successe a Pinerolo e che si moltiplicò per migliaia di volte, prima in Piemonte, in Liguria, poi mano a mano in tutta Italia, fu che questa formula era talmente efficace che tutti la imitarono. Quindi nacquero società di paese, con centinaia di associati, decine, centinaia di associati, nacquero anche nelle grandi città, come ad esempio Torino, delle associazioni con 10.000 soci. Questa forma di associazione è importante perché è basata assolutamente solo sul volontariato di chi le costituisce. Queste società non hanno spese di amministrazione perché l'amministrazione è sostanzialmente fatta dai soci che eleggono un consiglio di amministrazione, un presidente e un vicepresidente e queste cariche sono assolutamente gratuite, sono prestazioni volontarie per la società. L'unico stipendiato è il medico. Qualche volta all'inizio, perché in quel tempo pochi sapevano leggere e scrivere di quegli operai che si associano, qualche volta si stipendia anche un segretario contabile che redige i verbali delle riunioni e redige i bilanci associativi. Migliaia e migliaia furono queste società nell'Ottocento. Il periodo di sviluppo è la seconda metà dell'Ottocento, 1848, 12 ottobre, Pinerolo. Poi si sviluppano mano a mano. Dopo l'Unità d'Italia, il modello viene adottato anche nel centro Italia e nel meridione. Questo è il fenomeno associativo più importante dei lavoratori nell'Ottocento. Prima ancora del sindacato e dei partiti, che si sviluppano alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento, la forma associativa più importante, più diffusa tra gli operai è questa. Col diffondersi, rinforzarsi e diventare sempre più solide, queste associazioni riuscivano anche a mettere in piedi delle scuole serali perché un'esigenza importante per loro era diffondersi, rinforzarsi e diventare sempre più solide. Queste associazioni riuscivano anche a mettere in piedi delle scuole serali perché un'esigenza importante per loro era recuperare l'alfabetizzazione per tutti i soci, delle scuole tecniche perché siamo in un'epoca di trasformazione e non basta più saper lavorare con le mani, bisogna anche capire ed eseguire un disegno tecnico e soprattutto riuscirono a prima affittare, poi costruire o riallestire delle sedi di riunioni, come quella in cui ci troviamo. In queste sedi che cosa facevano? Non è che si riunivano solo, facevano solo le assemblee, in queste sedi facevano diverse attività, quelle associative, c'era una biblioteca, una bibliotechina circolante, c'erano dei giornali da leggere, ci si poteva trovare, giocare alle carte, c'era molto spesso anche paccio di bevande, cioè di vino. Dentro queste associazioni alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento si svolgevano attività di tutti i generi e tipi, si organizzavano balli, soprattutto a carnevale, si facevano attività di filodrammatica, si organizzavano dei corsi, quindi si cantava anche in maniera finata, non alla buona. Addirittura all'inizio del Novecento alcune delle società ebbero le loro prime sale cinematografiche. E questo è un po' il quadro di quello che allora successe. Il vino in queste associazioni è molto importante sia perché è un aggregatore, sia perché il vino veniva o prodotto o comprato in grandi quantità dall'associazione, quindi avevano del buon vino a prezzo contenuto, e veniva poi rivenduto ai soci con un piccolo ricarico. I proventi di questa attività servivano a finanziare le attività sociali della società, quindi per prima cosa a finanziare l'allestimento di sedi sempre più comode e belle. In secondo luogo a finanziare una cassa per i cronici, cioè per i soci diventati troppo vecchi o troppo malati che non potevano più tornare a lavorare, la malattia cronica non era coperta dal regolamento base. La malattia veniva risarcita per alcuni mesi, dopo il sussidio si interrompeva. Il cronico quindi usciva dalla copertura, ma continuava ad avere bisogno, quindi si costituivano delle apposite casse per il cosiddetto cronicismo, cioè per la malattia cronica. E queste casse venivano partite a parte e quindi finanziate a parte. Capire come vivevano questi operai che si associano in queste società operaie. Non è facile per noi. Non erano dei poveri, vale a dire non erano dei mendicanti, erano dei lavoratori o delle lavoratrici. Ma lavoravano sei giorni alla settimana e la giornata di lavoro era 10-11 ore. Cioè voi dovete immaginarvi dalla mattina alle 7, alle 7 e mezza fino al tramonto, fino al tramontare. Quindi fino alle 6 e mezza, 7 di sera. Il tempo libero era pochissimo durante la giornata. Non avevano la mensa, la pausa, pranzo. Lavoravano e basta, salvo rifocillarsi. Guadagnavano quello che è una paga di una lira, una lira e mezza, a seconda delle specializzazioni. Le donne guadagnavano di meno e meno ancora guadagnavano i bambini, perché allora c'erano anche i bambini di 10 anni in fabbrica. Quindi se l'operaio guadagnava metti una lira e mezza, la donna ne guadagnava 80 centesimi, 100, il bambino di 10 anni guadagnava 50-60 centesimi di lira. Cosa si comprava con questi soldi? Con una paga di un giornaliero si compravano 2-3 chili di pane, oppure si pagava l'affitto, occorrevano 10 giorni di lavoro per pagare l'affitto di una casa non certo sontuosa. I lavoratori si erano spostati da dove erano nati o da dove erano originari le famiglie, cioè la campagna, dove non facevano certo una vita nel lusso, ma avevano un sistema di protezione di famiglie e di villaggio, dove comunque insomma un piatto di minestra qualcuno te lo dava, anche se avevi bisogno, in un centro come poteva essere Pinerolo o come poteva essere Torino, dove non conoscevi nessuno, non avevi i legami di villaggio o di famiglia, eri solo tu e la tua famiglia, naturalmente avevi dei compagni di lavoro con cui mano a mano facevi amicizia e questo fa sì che tra compagni di lavoro, tra operai nella medesima situazione un po' precaria, si formasse quel legame di solidarietà che faceva muovere a costituire queste associazioni, a farle funzionare. Quello che va capito è che una malattia, non dico un raffreddorino, una malattia un po' grave, cioè che ti inabilitava al lavoro per un mese, era veramente un guaio, perché quella situazione di vita non ti permetteva di avere le spalle coperte, di avere una resistenza al rischio. Su questo voglio insistere, loro hanno questo problema, non sono poveri, con il loro lavoro riescono a vivere a malapena però, e vivendo a malapena, quando sono ammalati, quando gli capita qualcosa, sono veramente in rovina. Questa forma di associazione sicuramente nasce tra operai e artigiani, non nasce tra i contadini, che vivevano un'altra situazione, e nasce tra operai e artigiani maschi. Le prime società sono solo maschili, perché non anche femminili? C'erano certo, non è che non ci fossero fabbriche dove lavoravano operaie, anzi, molte fabbriche tessile preferivano far lavorare donne, proprio perché le donne potevano pagarle di meno dei maschi, e a stare su un telaio, a lavorare in alcune lavorazioni, andavano perfino meglio le donne, perché erano più delicate nel maneggiare i fili, per esempio. Così come andavano benissimo i bambini, perché avevano le ditine ancora più piccole. All'inizio, però, queste società sono solo maschili, proprio perché si pensa che la paga dell'operaio è più congrua, ti permette di più di versare, ma soprattutto perché si pensa che la donna abbia maggiore rischio di malattia, soprattutto legate alle vicende dei parti. i parti erano molto frequenti, non erano solo uno o due nel corso di una vita, e quindi, sembra cinica questa cosa, ma un po' effettivamente lo è anche, ma quindi all'inizio le società sono solo maschili, le società femminili nascono come società di sole femmine. Soltanto verso la fine del secolo e soprattutto all'inizio del Novecento cambiano un po' le situazioni di vita, cambia anche la mentalità di questa gente, c'è più istruzione, e quindi formano le prime società miste, dette allora d'amboisessi, e quindi a cui potevano iscriversi sia maschi che femmine. Fu talmente diffusa, sviluppata, che venne adottata non solo, man mano, non solo dagli operai, ma degli altri ceti, dei ceti medi. C'erano in Italia associazioni di mutuo soccorso a fine Ottocento, degli insegnanti, ma anche di professioni commerciali, così come c'erano anche delle società di mutuo soccorso costituite all'interno di una sola azienda, di una sola grande azienda. In questi casi il proprietario dell'azienda tendeva a rendere l'associazione alla società obbligatoria, quindi faceva un prelievo obbligatorio sulla... e a mettere altrettanto per parte sua, però voleva avere, visto che ci metteva dei soldi, voleva avere il controllo di questa associazione, quindi nello statuto c'era scritto che dei posti in consiglio di amministrazione, quando non la presidenza, era sua facoltà nominarli. La prima risposta è che nel 1848 viene emanato lo statuto albertino. lo statuto albertino è una costituzione concessa dal re, quindi non conquistata, ma concessa di sua spontanea volontà, che viene sicuramente delle rivoluzioni che chiedono le costituzioni, quindi chiedono che venga sostituito il potere assoluto del re, dei regnanti, con un potere costituzionale, cioè regolato da leggi quadro, come la costituzione che abbiamo adesso, lo statuto albertino concede perché nel 1848 nasce questa società a Pinerolo. Emanato è concesso perché in tutta Europa stanno succedendo di riunirsi senza armi e senza finalità sovversive. Di questo approfittano gli associati, gli operai di Pinerolo e il 12 ottobre promuovono la costituzione, il 12 ottobre è proprio la prima riunione di questa associazione. Quello che succede negli anni successivi non lo sto qui a raccontare, succedono le guerre di indipendenza, le rivoluzioni in tutta Europa, le costituzioni vengono concesse da tutti i regnanti italiani, solo che poi in tutti i regni educati italiani queste costituzioni concesse vengono revocate perché c'è la controrivoluzione, il merito dei regnanti, cioè di Carlo Alberto e poi di suo figlio Vittorio Emanuele II fu quello di non revocare la costituzione, quindi lasciare in vigore lo statuto albertino e quindi permettere che l'esperimento di Pinerolo si moltiplicasse in tutto il regno, quindi soprattutto in Piemonte e in Liguria. In poche parole quale fu lo sviluppo, la storia che è molto lunga appunto di queste associazioni? Già subito dai primi anni alcune società di mutuo soccorso formarono al loro interno i cosiddetti magazzini di previdenza che costituiscono gli albori delle cooperative di consumo, quindi le cooperative di consumo nascono all'interno delle società di mutuo soccorso come servizio per i soci per fornire loro dei generi alimentari e altri generi di prima necessità a prezzi d'ingrosso e essere distribuiti fra i soci senza particolare ricarico, quindi è un servizio importante. Queste cooperative mano a mano divennero un'attività molto importante e mano a mano nel corso dell'Ottocento e poi del Novecento si resero autonome cioè divennero mano a mano più importanti delle società di mutuo soccorso stesse perché vi immaginate avevano appunto grandi dimensioni aprivano grandi empori quello che vi sto dicendo successe a Torino ma non solo a Torino dove venne costituita nel 1899 l'alleanza cooperativa torinese che per darvi un'idea che aveva diversi negozi e in un'inchiesta del 1917 panificava un quarto del pane che veniva venduto a Torino. Alla fine dell'Ottocento all'inizio del Novecento non c'è sostanzialmente comune del centro nord e sostanzialmente anche non c'è comune italiano in cui non ci sia un'esperienza o più di una non si abbiva e non operi una società di un corso cioè in tutti i posti e naturalmente nei grandi centri ce n'è più di una magari anche tra loro concorrenti ci sono centinaia di persone associate migliaia di persone associate all'inizio del Novecento i soci sono milioni quindi il mutualismo è diventato in quegli anni non solo l'iniziale palestra dell'associazionismo operaio ma è diventata una vera realtà la più la più diffusa realtà del movimento operaio italiano tra fine Ottocento e inizio Novecento nascono i sindacati che all'inizio si chiamano leghe di resistenza ma non ve ne voglio parlare qui che all'inizio hanno molti meno iscritti delle società di mutuo soccorso che non competono perché fanno un altro mistiere le società di mutuo soccorso danno i sussidi di malattia e danno vita a quelle che poi diventeranno cooperative di consumo i sindacati organizzano le lotte per avere dei migliori salari delle migliori condizioni di lavoro e quando necessario organizzano gli scioperi quindi un altro mestiere complementare poi nascono dei partiti nasce il partito socialista che si presenta alle elezioni e cerca di prendere più consiglieri comunali più deputati più senatori che può al momento della prima guerra mondiale il mutualismo è diffuso in tutta Italia ed è molto forte la prima guerra mondiale dà un primo colpo perché i soci che vengono chiamati alle armi non possono più pagare le quote e quindi mancano gli introiti alle casse e questo crea un fortissimo sbilancio le società di mutuo soccorso verranno nel dopoguerra assaltate come le cooperative come i sindacati come i partiti dalle squadracce fasciste con l'avvento del fascismo molte le società di mutuo soccorso a differenza dei sindacati e dei partiti non vengono sciolti e dei partiti di sinistra non vengono sciolti ma vengono costrette a cambiare i dirigenti e a mettere nei posti a nominare nei posti di dirigenza soltanto iscritti al partito nazionale fascista in alcune società vengono private delle sedi che diventano sedi dell'opera nazionale dopo lavoro nel dopoguerra dopo la liberazione il movimento mutualistico riparte vengono restituite per lo più loro le sedi e c'è una ripartenza ma nel frattempo sono diventati molto più forti le cooperative di consumo e i sindacati come forma di protezione la mutualità qualcun altro lo racconterà la mutualità perde peso perché nel frattempo nascono prima le mutue aziendali poi la mutua nazionale l'Inps quindi la necessità per cui erano state organizzate perde di peso perché quando si sta ammalati ti risarcisce l'ente l'ente previdenziale l'Inps e che poi ti paga la pensione quando vai in pensione quindi questa funzione perde di peso rimangono dei centri nel dopoguerra sempre di più dediti alla socialità quindi a fare delle delle attività sociali e ricreative e questa è la situazione che abbiamo adesso di cosa è adesso e di cosa e di cosa si può sviluppare ve ne parla magari qualcun altro e di cosa di cosa si può sviluppare e di cosa si può sviluppare Grazie.